Lei tra coloro che hanno sottoscritto questo documento che viene chiamato Antirenzi, che è circolato in questi giorni, si parla già di corrente, correntone bressaniano che fa capo all'ex segretario. Ecco allora, è una corrente formata da ex DS, si dice. Lei si riconosce in questa lettura che danno in retroscena in questi giorni? No, perché non è il documento Antirenzi, è il documento di chi alcuni di noi ha provato a lanciare una traccia di discussione aperta, quindi non una corrente chiusa, non firme già raccolte, ma una proposta di discussione attorno ad alcuni punti politici. Nella convinzione che abbiamo che il prossimo congresso, che è un congresso decisivo per il futuro del PD e del centrosinistra italiano, debba partire da alcuni contenuti e da alcuni nodi politici, non da una discussione astratta sulle persone, sui candidati, sulle alleanze. Quindi non c'è nessuna pregiudiziale su Renzi, che potrebbe essere in futuro una figura utile anche per guidare il centrosinistra. Non condividiamo alcune idee che Renzi ha esposto sul partito, non pensiamo che queste idee siano adatte per chi deve guidare il partito, ne proponiamo delle altre che sono fondate sulla partecipazione, sono fondate sul rifiuto dell'idea di un partito personale. Pensiamo che il PD debba rafforzare la sua specificità, che è quello di essere l'unico partito non personalistico e non proprietario dello scenario politico italiano e non omologarsi agli altri partiti personali. Proviamo a riflettere sull'Europa, sull'euro, a fare di questo una grande questione, una grande battaglia per un'Europa federale. Insomma, temi politici, non contrapposizioni personali. Ecco, però molto delle polemiche in queste ore, in questi giorni, gira proprio sulle primarie, le cosiddette primarie, insomma, che almeno secondo il documento non sarebbero aperte, insomma, che questo un po' contrasta anche con lo spirito, le parole che ha detto l'ex segretario, insomma, di un partito aperto, plurale. Ecco, non rischia questa polemica sulle, insomma, di queste primarie, così, insomma, che non dovrebbero essere, come vorrebbe Renzi, aperte di deneggiare più che altro il partito e non gli iscritti o comunque le persone interessate. Ma questo dimostra che il documento è stato più discusso che letto, perché nel documento, se lei lo legge, c'è scritto che per il segretario nazionale è giusto che rimangano primarie aperte. Quindi non è questo il tema. Noi pensiamo che sia giusto avere un leader di partito che sia investito di una legittimazione ampia. Abbiamo posto altri due temi, che non ha senso eleggere un segretario che sia automaticamente anche il candidato alla presidenza del Consiglio, visto che già non è stato così con Bersani, visto che abbiamo un Presidente del Consiglio, che è un esponente del PD, letta, dobbiamo sostenere il suo governo e non si capisce a questo punto perché dovremmo fare un congresso su chi guida il prossimo governo, come se già volessimo liquidare quello attuale. E poi poniamo il tema di un congresso che parta dalla discussione politica e dai territori, non le correnti che dall'alto scendono nei territori attraverso filiere rigide, ma un moccanismo di discussione politica che parta dai territori e poi possa arrivare entro l'anno a eleggere il segretario nazionale con primarie aperte a tutti gli elettori del PD. Quindi questo tema della chiusura è un argomento non fondato sulla realtà. Ma aperte a tutti gli elettori del PD, soltanto a quelli che sono iscritti? A tutti quelli che esattamente come è successo nel 2007 per Veltroni e nel 2009 per Bersani, quando abbiamo letto prima Veltroni e poi Bersani, si presentino ai seggi e si dichiarino elettori del PD, come è successo in passato. Non è questo il tema di discussione, su questo siamo d'accordo. Sono altri i temi che non ci vedono uniti su un'intesa e che dovremmo approfondire. Noi siamo perché il PD rimanga un partito diverso dal partito di Berlusconi, di Grillo, dalla lista Monti, che come diceva Bersani passa un segretario ma il PD rimane. Siamo contrari all'idea di un partito che lega il proprio destino a un'unica persona. Un partito che mantenga una propria struttura, una propria partecipazione, un proprio radicamento sul territorio. In fondo le ultime amministrative che cosa ci dicono? Con tutti i suoi problemi il PD vince perché ha un tessuto diffuso di militanti e di amministratori che ha resistito, è venuto meno un segretario nella sua funzione ma non è sparito il PD. Noi riteniamo che questo sia un punto di forza da consolidare, non da abbandonare. Senta, onorevole, cosa risponde a questi 40 parlamentari che si dice sempre che facciano parte di questa corrente berzagnana, ex-berzagnani, che in qualche maniera hanno scritto un documento a loro volta, almeno questo racconto nel retroscena, sempre indirizzato al nuovo segretario Epifani, al capogruppo della Camera Speranza, che dice che vorrebbero smetterla con le correnti, eccetera, eccetera. Si parla di manuale e cencelli per quello che riguarda la spartizione degli incarichi. Lei che cosa risponde a tutto questo? Penso che così come adesso il correntismo non funziona perché è normale che ci siano diverse aree, però queste diverse aree vanno messe in equilibrio poi con le competenze e anche con un ruolo più forte dei territori, degli amministratori e non sempre questo siamo riusciti a farlo. È uno dei difetti del PD che dobbiamo correggere. Da questo punto di vista la sollecitazione di questi parlamentari è utile. Poi nella corrente bersaniana molti di questi giovani parlamentari si lamentano di non aver avuto un'area di riferimento proprio perché fino a Bersani non ha organizzato una corrente. Devo dire che l'intenzione, ne ho parlato con Bersani, non è questa. Il documento che alcuni di noi, certo discutendone con lui e con altri, abbiamo promosso non ha l'ispirazione di una corrente chiusa perché non è aggiungendo una corrente a quelle già esistenti che risolviamo il problema né facendo una corrente che fa finta di parlare male delle altre correnti. Noi abbiamo bisogno di un'ispirazione larga, federativa, inclusiva che tenga in vita la sfida di mantenere unite le culture, le radici diverse che sono alla base del PD. Fare il PD proprio perché no a un doppio snaturamento, al rischio di un doppio snaturamento del PD che vediamo. Uno in senso plebiscitario e personalistico, l'altro inteso come tentazione di ritorno agli ovili, alle case madri, alle culture di appartenenza che sarebbe un altro errore e un altro modo di non corrispondere a una necessità che ha la democrazia italiana di avere un PD forte in campo.